guarda come corro bravo vai veloce 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 bravo questo ti aiuta a migliorare la tua rapidità e la tua attività ragazzi cambio avanti Giulia adesso il tuo vatico è al 54% quindi dobbiamo portarlo almeno al colore verde o arancione 80% ci stai? andiamo? via let's go guarda vedo che sta andando adesso al 97% e il quarto provate a rallentare un po' tornare in colore arancione perché la zona più allenante cura te l'arancione e il colore più allenante che ti porta un'espinta metabolica a bruciare dei grassi ok rallenta un pochino vai 5 secondi bravissima bravissima brava Carlo veloce brava altri 5 secondi vai 5 secondi 3 2 1 grande guarda 5 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 6